V4V, ma quando hai iniziato a tenere traccia del net worth? E cosa ti ho spinto a farlo inizialmente? Mi sono trovato a tenere traccia del net worth a partire dal giorno o il giorno dopo della morte di Freddie Mercury, 24-25 novembre del 1991, quindi festeggio 30 anni e mezzo di tracciamento del patrimonio. 30 anni che traccio il patrimonio. Cosa mi ha spinto? Beh, mio padre, tra le cose che ha fatto, è stato anche amministratore di tanti condomini. Amministrava condomini, quindi lo vedevo che teneva sti bilanci cartacei con righe e colonne, i bilanci condominali. E quindi stavo con lui, mi piacevano i numeri sempre. E a un certo punto ho cominciato a tenere dei soldi, già a quell'età, a 15 anni, 14 anni, perché i nonni mi regalavano dei soldi e comunque sono sempre stato educato a non prenderli e sputtanarmeli subito. E a un certo punto avevo un po' troppo cash e mio padre si è proposto come banca, dicendo ti do il 10% di interesse annuo. E io quindi tenevo con lui un libretto in cui tracciavo il mio patrimonio. Gli davo dei soldi, gli chiedevo dei, prendevo dei, facevo dei ritiri. E questa roba qui mi ha dato molto incentivo. A parte vedevo che i soldi che rimanerano lì dentro crescevano al 10% anno e quindi era interessante. Questa roba del libretto è andata avanti per 4-5 anni, fino a che avevo 20 anni, penso. A quel punto poi ho aperto un conto con Banca di Roma, ero studente universitario, ho aperto un conto e da lì ho iniziato, comunque ho continuato a tracciare con Spreadsheet. C'è stato un buco dal 2000, quindi circa sono 20 anni che traccio con Spreadsheet. Dal 2002 ho dati su Spreadsheet, quindi c'è stato un buco tra il 96 e il 2001, non ho tracciato. Però l'incentivo era sempre quello del quanti soldi ho, quanto posso permettermi di non lavorare. Questo era l'incentivo. Quando guadagnavo qualche soldo dicevo, che figata posso permettermi di non dipendere dai miei genitori per questo tipo di acquisto. O quando ho iniziato a lavorare, che figata posso volendo per 5 anni non lavorare, visto che spendo poco. Ero molto più orientato a spendere poco, ero proprio uno che spendevo pochissimo. Quindi spendevo pochissimo e avevo un patrimonio, e quindi il patrimonio erano n mesi, n anni, nio-annio di non dover lavorare. Quindi non era ancora Financial Independence come concetto, perché non c'era l'investimento, però c'era il, oh da parte 20.000 spendo 500 al mese, sono 3 anni senza lavorare, figo. Non era meglio rimanere, sì a un certo punto mio padre, c'è sul libretto da una parte c'è scritto il tasso scende dal 10 al 4%, quando a un certo punto io ero un barbone di Dio, avevo qualche milione di lire, il padre fa, eh non ti posso dal 10%, a me la banca moneta è il 2%, educativamente ti ho insegnato i giusti valori, ma non ti posso da più il 10%, ho disceso al 4% e mi sono trovato un po' come quando i bond crollano le stocks auto, ho tolti l'ho messo in stocks, infatti era il 2000 e ho perso il 50% nella dotcom bubble.